Parliamoci chiaro ragazzi, giustamente hanno ricordato 40 anni fa l'Italia campione del mondo in Spagna e un anno fa l'Italia campione d'Europa in Inghilterra, ma non hanno detto che 12 anni fa la Spagna vinceva la Coppa del Mondo, questo non l'hanno detto ragazzi, non hanno detto niente su quel gol di Iniesta nei supplementari che ha piegato l'Olanda che perde così la sua tezza finale, e proprio non la vecchiera mai quella Coppa del Mondo secondo me. E poi giustamente 40 anni fa l'Italia era campione del mondo in Spagna, io purtroppo non ero nato quindi non è che posso farvi un... non è che posso ricordare un altro, però giustamente c'è la grande nazionale di Berzot. Però giustamente andiamoci a ricordare anche il trionfo di un anno fa ai calci di rigore quando Saka si fece parlare da Donna Rumma e ci regalò così la Coppa del Mondo. Gli inglesi ancora rompono per fare sta ripetizione di sta finale, ma andatevene a cagare, andatevene. Voi e la vostra ripetizione che sapete dove ve la potete ficcare. Ridicoli, che non sanno perdere. Perché allora non domandano la ripetizione contro l'Inghilterra invece di... invece di... prima di parlare della finale contro l'Italia. Semifinale contro l'Inghilterra volevo dire, scusate. Grazie.